È importante ridare fiducia ai cittadini con una giustizia rapida ed efficiente. In un momento in cui all'Aquila c'è un sentimento di indignazione popolare, dopo la sentenza sciocca e sui morti del terremoto, c'è bisogno di fare di più. Il presidente della sezione di corte d'appello dell'Aquila, Aldo Manfredi, spiega che ovviamente lui non può dire nulla sulla sentenza in questione, ma di certo la giustizia deve dare risposte, solo creando un ponte fra territorio e istituzioni si può fare. L'occasione per parlarne è data dalla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, che poi è un progetto, Sentieri di Legalità, promosso dall'Aquila che rinasce, che si occupa ormai da dieci anni di queste tematiche, con la collaborazione del Consiglio regionale abruzzese, anche perché c'è la grande occasione del PNRR. Proprio sui tempi si sta lavorando in maniera intensa, il PNRR ci impone questo, lo stiamo facendo, e questa iniziativa che oggi presentiamo va in questo senso. È un'iniziativa in cui abbiamo realizzato un supporto, un aiuto, abbiamo ottenuto un aiuto dall'esterno, dall'associazione Aquila che rinasce, per avere un contributo di volontari che ci danno una mano, per migliorare le prestazioni, aumentare la produttività, dare una risposta più efficiente alla comunità. Spesso i tempi della giustizia fanno diminuire la fiducia, con l'iniziativa presentata che permetterà di impiegare tra le altre cose dei volontari, funzionare in pensione per dare una mano, di certo si darà un notevole impulso, anche se la Corte d'Appello dell'Aquila ha numeri buoni. Avevamo un grossissimo arretrato, abbattuto in gran parte, è una produttività estremamente soddisfacente, posso dire che forse noi stiamo, sicuramente realizzeremo gli obiettivi che l'Europa ci impone. Ci saranno comunque tante iniziative, legate anche ai giovani alla sensibilizzazione, sul tema della legalità. Il Consiglio regionale ha già approvato una legge bipartisan, in tal senso, come sottolineato dal Vice Presidente del Consiglio, una norma che consentirà di sostenere la Corte d'Appello. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha votato una legge all'unanimità, quindi bipartisan di tutto il Consiglio regionale, tesa alla collaborazione con l'Associazione dell'Aquila che rinasce, e la Corte d'Appello dell'Aquila, che poi è regionale, per rendere la giustizia più veloce, meno burocratica, e smaltire l'accumulato della burocrazia che ci portiamo dietro come Italia.